le vittime nel terremoto in Emilia Romagna. Grazie mille. Ricordiamo per la sedicenne Melissa, vittima dell'attentato dinanzi alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi ieri mattina, il ricordo di Salerno per le vittime del terremoto in Emilia Romagna, dove la terra continua a tremare anche in questi minuti. Ricordiamo lo stessione Brindisi-Salerno che è vicino, esposto in curva sud, come vi abbiamo detto. Si parte. Si, si parte.